Il potere di Cronica si era impossessato di me e mi avrebbe condotto alla follia, se non avesse trascorso secoli, a studiare questa magia oscura che travalica l'umana comprensione. Ora posso controllare il tempo e il destino. Tuttavia, la sconfitta di Cronica dimostra che persino i titani possono essere sconfitti. Con i miei poteri posso muovermi tra le linee temporali e divorare miliardi di anni. Eppure, sono ancora vulnerabile. Per sopravvivere devo tornare nell'ombra, evitare lo scontro e imporre la mia volontà per l'antidante. Nello specifico, per mano dei miei cari titani, queste creature mostruose sono facilmente manipolabili se predati in un titano. Vanità e paura. Nel loro aiuto ho piegato il mio eterno volere, ogni anima del creato. Nella mia nuova era dimostrerò la fallacia della moralità. Ma gli astrutti avranno successo, ma di scapito di loro. Così ha parlato. Shang Tsung. Buona giornata.